Una stagione sfortunata per l'intero sistema calcio, per le note vicende legate all'emergenza sanitaria per il coronavirus, ma c'è chi già da prima aveva archiviato questo campionato come negativo per la propria carriera. Stiamo parlando ovviamente della stagione del giovane Giovanni Ceciua, che ha dovuto fronteggiare l'infortunio più brutto della sua carriera fino ad ora, con la rottura del crociato. Il centrocampista Camerunense però è sulla buona strada per quanto riguarda il recupero. Il classe 2000 infatti ha sempre dato tutto adottando anche lo smart working sportivo, anche durante la quarantena, cercando di mantenersi in forma durante il periodo di pandemia. Adesso la riabilitazione continua, anzi si intensifica sempre di più e anche Ceciua sta facendo di tutto per poter tornare quanto prima a disposizione di Mr. Trocini per essere un vero protagonista in vista della prossima stagione. Le Vistus Francavilla